Bene, buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 luglio del 2020. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali. Intanto vi dico che ieri sera sono stato in un ristorante e ho incontrato due persone che lavorano in questo ristorante che mi hanno detto, mi viene da ridere ma c'è poco da ridere, che in questo fenomeno dell'Italia che fa finta che non ci sia nessun problema il ristorante è ripreso a lavorare ma toc toc, tridico della minchia, non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Bene, voi potete anche fare, abbiamo inondato gli italiani di soldi eccetera, ma ci sono ancora migliaia di persone che non hanno ricevuto la cassa integrazione a marzo, aprile e maggio. Quindi non cercate di fare i furbetti che tutto quanto va bene, non va bene niente come quei cretini di italiani che dicevano andrà tutto bene, è andato tutto malissimo, poi ne parleremo. Nel frattempo però c'è un incontro con i giornali, ci comunicano tra Conte e Zingaretti. Beh è fantastico, siamo tutti compiaciuti dal fatto che Conte si sia visto con Zingaretti. In realtà la pensiamo allo stesso modo e ora bisogna correre, dice Conte, ti sembra veramente che ti stiano prendendo per i fondelli. La pensiamo allo stesso modo, Zingaretti e Conte, fantastico, l'uomo che abbracciò Di Maio dopo le elezioni del 35%, poi dopo si trova a pensarla ugualmente con l'uomo Zingaretti che aveva detto non farò mai un'alleanza col PD, col Movimento 5 Stelle e su questo siamo straordinariamente contenti, che nel giro di un solo anno Zingaretti dal dire alle primarie non mi allererò mai con loro finalmente va d'accordo con Conte. Ma ovviamente la nostra memoria è talmente breve che non ce lo siamo neanche ricordato. Ma la cosa straordinaria è che Conte dopo che si è inventato le minchiate, il palazzi, gli incontri, Villa Madama, Villa Doria Panfile, eccetera, adesso dice bisogna correre, oggi se ne accorge. Roncone ci racconta invece quello che sta avvenendo davvero sul Corriere della Sera, cioè il mercato dei senatori, dove la maggioranza al Senato è di 161 voti, la maggioranza, qua mi chiamano, io mi fa impazzire quando mi chiamano quando sono in diretta, beh la maggioranza è di 161 voti, come sapete ora ci dovrebbe essere un importante voto, cioè il decreto che vede lo scostamento di bilancio, cioè fare più deficit, e lì servono questi 161 voti, ma in realtà siccome ci sono stati 33 passaggi da un partito all'altro, da Forza Italia ai Renziani, fantastico perché in questo caso, dice Roncone, stiamo andando al partito del 3%, quello semmai c'è un po' più di voti e anche un po' più di storia, ma comunque va benissimo, i voti che vanno dai grillini ai leghisti, insomma c'è la transumanza tipica del Parlamento, ma qua non ci sono più i grillini che si scandalizzano perché sono loro i primi a farla questa transumanza, ma lasciamo perdere. Conte inoltre pare che ieri a Zingaretti gli abbia detto, sapete che cosa c'è? Che è giusta l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle alle regionali, insomma ragazzi vale tutto, vale tutto, nel frattempo l'Italia affonda, non lo dico io, lo dicono i dati, i numeri, affonda qualcuno, sostiene ancora come fa Repubblica, perché non potrebbe fare altrimenti, lavoro, il conto del virus lo pagano i giovani, no, no, non funziona così, il lavoro, il conto del virus lo pagano i giovani, e lo pagano le donne, e lo pagano gli ultracinquantenni, sapete perché? Perché il primo decreto di merda fatto dal governo leghista grillino, che si chiamava decreto di dignità, ha ingessato il lavoro, e poi oltre a quel decreto assurdo, fatto da leghisti e grillini, mi ricordo il presidente del gruppo parlamentare leghista, soddisfatto di quel decreto di dignità, quindi non ve lo dimenticate, l'altra vicenda incredibile è questo lockdown fatto all'italiana, per cui come sempre siamo stati i più realisti del re, e lo abbiamo fatto doppio, triplo, quadruplo, rispetto a quello che gli altri hanno fatto. In più, aggiungeteci una cosa, che tutti quanti voi che siete persone normali, che non avete il baco della politica in testa, quando andate a vedere i protocolli del cazzo che stanno mettendo, nei bar, nei ristoranti, nei trasporti pubblici, nelle scuole, negli asili, nei centri estivi, cioè tutti questi protocolli che derivano da un comitato tecnico-scientifico criminale, criminale, e dall'atteggiamento del giornale unico del virus, che dice stanno arrivando i contagi e quindi sono giusti i protocolli che non ci toglieremo mai, beh, quando metti insieme tutte queste cose, poi dici, secondo voi chi lo perde il lavoro? Il dipendente pubblico? Il dipendente garantito? Il manager che riesce a cercare di trovare una soluzione? O i più deboli della fascia? Cioè i giovani che devono entrare, le donne che hanno magari un part-time, o i contratti a tempo determinato? Secondo voi chi è che perde il lavoro? E questa roba qui deriva dal virus? Sì, in parte sì, ma molto anche dalle minchiate che siamo riusciti a fare. E' bellissimo, sempre, sempre bellissimo, e approfondito il pezzo di Valentina Conte su Repubblica, ormai io non la conosco, penserà che io la stia stolchizzando, e oggi fa una inchiesta, probabilmente anche tutta nelle carte, sui famosi centri dell'impiego. Sia chiaro, non è che prima funzionassero molto meglio di oggi, ma certo che oggi funzionano molto peggio di ieri, e cioè per i centri dell'impiego, cioè quelle cosiddette politiche attive sul lavoro, che già per me che sono un liberista è una strozzata, perché le politiche attive sul lavoro lo fai aiutando le imprese, non pensando che ci siano dei carrozzoni di Stato che trovano lavoro, ma diciamo che su questo possiamo anche per un attimo transiare. Però diciamo pure che queste politiche attive sul lavoro potrebbero servire a qualche cosa, in Italia non servono nulla e costano un miliardo e mezzo, un miliardo e mezzo per i 552 posti e centri per l'impiego, non compresi i 260 milioni che abbiamo speso per questa inutile farsa dei navigator, beh tutta questa cosa qua Valentina Conte ce lo descrive come la rete bucata in un pezzo davvero ben fatto. Nel frattempo il decreto semplificazioni, che sarà un'altra di quelle balle, che peraltro che tanti governi hanno provato a fare sta affondando, o meglio i contrasti sul decreto semplificazioni si avvertono su due temi, sugli appalti, perché il cosiddetto modello Genova di cui parlano tutti, stanno litigando tutti quanti, ma la cosa stupenda, secondo l'elettroscena che ho letto oggi, diciamo che si avranno affidamenti diretti fino a 150 mila euro, e questa invece per la verità era una cosa giusta voluta dai leghisti nella pazza finanziaria quando governavano i famosi affidamenti diretti fino a 150 mila euro, quindi te li spendi senza gara, poi ci sono delle gare eccetera, ma il cosiddetto modello Genova, cioè che tu fai un ponte e deroghi al codice degli appalti, questa nomina dei commissari per fare i ponti e le infrastrutture in quella maniera, vede il Partito Democratico contrario all'ipotesi invece che vedono favorevoli Italia dei Valori nel Movimento 5 Stelle, ma all'interno di questo, nella lista delle cose che potrebbero avere il modello Genova, i 5 Stelle certe cose non le vogliono, insomma vi rendete conto che noi siamo appresi a questi qua. Nel frattempo c'è un altro casino che evidenzia chiaramente oggi il sole 24 ore, ed è l'apertura, ve la leggo, il sole 24 ore, caos Liguria, e non è tanto è solo il caos che discriverò anche a Quarta Repubblica lunedì, sempre da non dipendente di media, se te lo voglio dire a quei cazzoni del fatto che ancora mi dicono l'impiegato di Berlusconi, non sono ancora un impiegato, io sono impiegato soltanto la zuppa di porro in questo momento, cioè solo impiegato della zuppa di porro. Bene, il caos Liguria dice il sole 24 ore nasce dal fatto che c'è una fuga dal porto di Genova, ma grazie al cavolo, perché dice non gli fanno sconti, le infrastrutture fanno schifo, non c'è la possibilità, cioè si mettono tutti quanti in queste code interminabili sulle autostrade e sui cavalcavia genovesi e uno dei più grandi operatori del porto che sono i cinesi di Cosco dico ciao, ciao belli, ma perché dobbiamo venire a Genova e non dobbiamo andare a Rotterdam, non dobbiamo andare in tanti altri porti meglio attrezzati, soprattutto con una viabilità di accesso al porto molto migliore? E sulla questione comunque del decreto semplificazioni mentre stiamo iniziando a fare i casini su Genova, sapete che succede? Che litigano e bisticciano su questo famoso articolo 17 che è l'abuso d'ufficio. Financo di Pietro più volte mi ha detto che è una legge fatta coi piedi l'abuso d'ufficio, perché tutti i funzionari pubblici in questo hanno ragione, hanno paura di firmare perché rischiano la galera per una specie di reato, ma che poi la galera vuol dire semplicemente come una mia amica che conosco da anni indagata e rischiano di non avere aumenti di stipendio, di rimanere lì a guardare un muro. Insomma il casino della pubblica amministrazione e del mobbing giudiziario è una cosa che ben conosciamo. L'abuso d'ufficio però c'è un piccolo problema, quelli di Italia Viva dicono che sono sempre stati contro l'abuso d'ufficio, però non possiamo cambiarlo perché è una norma che favorirebbe soltanto i sindaci Raggi e Appendino. Allora gli risponde il fatto che il giornale del Movimento 5 Stelle di Conte dice non è vero, non è vero perché aiuterebbe anche Sala, aiuterebbe anche quell'altro, aiuterebbe tutti quanti, tra l'altro gli stessi del fatto sono quelli che invece le leggi di depenalizzazione non le amano, però sull'Appendino nonostante il titolo del fatto sia nessuna norma salva sindache, sull'Appendino se leggete il pezzo dice che c'è una mezza verità in quello che dice Italia dei Valori, cioè l'innominabile come lo chiama quel travaglio là, e qual è la mezza verità? Che c'è una causa aperta, un'indagine aperta proprio l'Appendino per abuso d'ufficio, però c'è anche quella per falso, quindi avete capito la logica del fatto? È una mezza verità perché l'Appendino c'è una per falso e una per abuso d'ufficio, quindi è una mezza verità quello che dicono quelli di Renzi perché in realtà oltre ad avere l'abuso d'ufficio c'è anche il falso, ragazzi siamo veramente, cioè quelli del fatto hanno la faccia come il, non ve lo dico perché quelli poi dopo querelano perché sono dei fenomeni, cioè loro possono scrivere qualsiasi cosa al mondo ma poi querelano, sul del lavoro ve l'ho parlato, grande tema di giornata è il ritorno dei Marò, il pezzo migliore oggi lo fa Danilo Taino, intanto è molto interessante, la Bonino subito orgogliosa dice sono stato io a chiedere l'arbitato internazionale, brava Bonino, brava, brava, così la Bonino si porta a casa anche un piccolo, una piccola medaglietta, pensa un po' tu e dice la cosa più divertente di Danilo Taino è invece una cosa molto seria, cioè tutti i giornali raccontano il fatto che saranno a giudicarle una procura italiana e precisamente quella di Roma, cioè sarà l'Italia a decidere cosa avvenne in quella notte quando furono ammazzati due pescatori indiani, ma non quella italiana e non quella indiana, quindi questo va benissimo per i due i nostri fucilieri e ne sono ben felice, ma la cosa straordinaria è che la corte dell'AIA decide che noi si debba rimborsare i due pescatori, allora Taino si dice ma scusami ma voi non avevate prove, non avete fatto un'inchiesta, non avete fatto indagini, in virtù di quale scelta incredibile al mondo voi potete dire che l'Italia debba per esempio risarcire qualcuno che magari non ha fatto le cose che ha detto e si trova, noi saremo tanto contenti che i due fucilieri verranno giudicati all'Italia, ma mi sembra veramente incredibile l'idea che noi si debba pagare un risarcimento, non perché non si debba pagare un risarcimento ma perché non l'ha deciso un giudice, cioè banalmente e qua tutti zitti e muti a fare pipa dicendo che bella la corte dell'AIA in cui poi vai a capire quando vedi cinque che hanno vinto, lo dice Taino, erano cinque magistrati, cinque grandi signori che si trovano all'AIA, pensate che questa corte riunisce 121 paesi dal 1890, cioè sostanzialmente, 99, sostanzialmente chi fa parte di quello può adire a questa corte della giustizia dell'AIA, degli arbitrati dell'AIA che stabilisce le dirime, le vicende tra stati, c'era un italiano e un indiano e ovviamente l'italiano li voleva in Italia e l'indiano li voleva in Coso, poi c'era un mi sembra un sudcoreano e un russo che hanno votato per mantenere la giustizia in Italia e un giamaicano che ha deciso per l'India, io la trovo stupenda questa cosa della corte dell'AIA e della sua efficacia, Meloni e Salvini mantengono la loro linea che è un po' la risposta rispetto a quello che ha detto Berlusconi ieri, che ha detto facciamo pure un governo, Meloni dice in un'intervista oggi al messaggero non c'è alternativa al voto, la stessa cosa dice Salvini alla stampa, io un governo con il PD non lo faccio, bisogna andare a elezioni a settembre, l'unica cosa che su tutta questa vicenda bisognerebbe riconoscere e qua arriverà subito qualcuno che dirà Porro sei un Meloniano, non me ne fotto un cavolo, però Berlusconi è sempre stato all'opposizione anche se qualche tendenza governativa dalla rielezione di Napolitano, Letta, Monti, insomma ce l'ha avuta, la Lega ha governato col Movimento 5 Stelle, adesso schifarsi del PD va tutto bene ma ha governato col Movimento 5 Stelle fino a un anno fa, l'unica che di questi non ci ha governato e può continuare a dire andare a votare come una specie di Caterpillar mi sembra la Meloni, tutti gli altri, insomma qualche scheletrino nell'armadio diciamo di rapporti con il governo ce l'ha avuto, posto che non è in assoluto sbagliato fare un governo per esempio per tre mesi, quattro mesi, ma bisogna capire per che cosa, per fare cosa, cambiare la legge elettorale, cercare di abbassare le tasse, inventarsi una cassa integrazione diversa, aiutare le imprese, qualsiasi cosa, ma ditecelo perché se no non si riesce a capire governare per governare ci teniamo conto che è il maestro totale sublime del governo fine a se stesso e non certo per gli italiani. Degli appalti vi ho portato, beh vabbè poi sta straordinario, sulla questione Mediaset la cosa, io vi dico soltanto una cosa, Travaglio e i suoi sgherretti se la prendono con questo giudice di cui ho fatto sentire gli audio io a Rete4 e che cosa dicono? Dicono un giudice morto che parla, il giudice morto che parla, toc toc, Ciancimino, no ma ve lo ricordate Ciancimino? Ciancimino ci avete fatto due palle così, con tutte le trattative, con le cose, facendo parlare il figlio del mafioso che parla, il figlio del mafioso che parla tra l'altro beccato a farci un finto tentato a casa, mi sembra di ricordare bene, cioè voi avete costruito questa gigantesca narrativa sui pentiti, sui morti, sui figli dei morti e adesso che c'è un audio vivo di un magistrato che dice che quella è stata una sentenza che fa schifo, voi lo distruggete, voi peraltro non da soli, perché ricorda oggi Fazio in un bellissimo pezzo sul giornale, come la rivista di magistratura democratica di magistrati sono riusciti a dire che questa roba qua del magistrato è nata perché il magistrato era stato accusato di corruzione della procura di Roma, peccato che queste dichiarazioni del magistrato sono del 2014 e l'accusa di corruzione della procura di Roma è del 2017, peraltro l'accusa sarebbe, pensate un po' voi, la macchina del fango, altro che noi, la fa anche la rivista dei magistrati, sarebbe che si sarebbe, questo magistrato è una storia pazzesca, io ci voglio ritornare lunedì perché è fantastica, il magistrato che parla con Berlusconi e dice che quella è una sentenza orrenda è stato, è indagato, che poi l'indagine ovviamente è finita perché è morto, perché avrebbe fatto rifare le tette alla propria fidanzata in brasiliana e avrebbe chiesto agli angelucci di scrivere che quella invece era un'operazione di chirurgia, diciamo, medica e non estetica, io la trovo una cosa straordinaria, straordinaria perché soltanto in questo paese di Cialtroni uno può pensare che il tema fondamentale siano le tette del magistrato che va a parlare con Berlusconi che peraltro mi sembra sia anche un grande amante del soggetto, soggetto diciamo femminile, insomma questa è l'Italia, magistrato, tette, indagini, travaglio e in questo paese l'unica cosa che devi sperare è di non finire sotto le grinfie di questi qua perché tra una tette e un magistrato non sai che cosa preferire. Il coronavirus ci presenta il conto, ripeto lo dice anche il quotidiano nazionale ma qui secondo me il pezzo di Turani è molto interessante come spesso avviene col pezzo del grande giornalista economico di Repubblica, dice creare lavoro altro che bonus monopattini, il fondo del quotidiano nazionale di oggi. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento al sito nicolaporro.it per tutte le altre informazioni di giornata, mi raccomando dovete seguire l'unica cosa che vale la pena per avere un'informazione seria, oggi c'è Antonio De Filippi che ci spiega da Renziano perché difende non solo Berlusconi ma anche Renzi, insomma c'è di tutto sul giornale, ciao!